Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi voglio parlarvi, dato che alcuni di voi mi hanno chiesto di esprimere la mia opinione su questo prodotto, di un mascara che ho acquistato e sto utilizzando da circa 15 giorni ed è il Rocket Volume Express Mascara della Maybelline New York. Partiamo dal presupposto che io amo particolarmente il marchio Maybelline New York, un marchio della grande distribuzione che secondo me produce cosmetici molto validi e dal rapporto qualità-prezzo piuttosto vantaggioso. Questo mascara, che è piuttosto recente come uscita, si presenta nel classico packaging piuttosto ciccioso che caratterizza molti mascara della Maybelline New York, contiene 9,6 ml di prodotto e ha una durata di 6 mesi dall'apertura della confezione. Come ho appena detto, questo mascara è uscito da poco, perlomeno in Italia, perlomeno io è da poco che lo vedo sullo scafale del supermercato, in linea col marchio Maybelline, è un prodotto facilmente reperibile per cui lo potete trovare sia nei supermercati, sia in catene di negozi come CAD oppure Tigo Tasta, 9,90 euro, per cui ha un ottimo prezzo secondo me per un mascara di questo genere. Le caratteristiche principali che differenziano questo mascara in particolare dagli altri precedenti sono, innanzitutto, la formulazione del mascara, direi proprio, che è in gel, per cui questo mascara ha una texture particolarmente liquida e leggera, che però è perfettamente calibrata e nel momento in cui lo andate a lavorare e applicare sulle vostre ciglia, non è né pastoso, per cui non li rigidisce, ma nello stesso tempo non è neanche eccessivamente bagnato, per cui non è di quei mascara che vi impiastriciano tutto l'occhio nel momento in cui lo applicate. Anche la pigmentazione è perfetta, in linea con tutti i mascara presenti oggi sul mercato, per cui è un nero molto intenso, molto pigmentato. Nel momento in cui voi applicate il mascara sulle vostre ciglia è estremamente performante. Sulla confezione che io non ho conservato c'è scritto che volumizza, proprio come formulazione, le nostre ciglia 8 volte rispetto al volume iniziale. Io personalmente non ho modo di misurare questo volume, se effettivamente è di 8 volte oppure no, ma vi posso garantire che se partite da ciglia piuttosto folte, come nel mio caso, ottenete veramente un effetto in poche passate molto drammatico e in pratica l'effetto ciglia finte è assicurato. L'altra novità che caratterizza questo mascara è lo scovolino. Già sulla confezione viene illustrato lo scovolino che viene definito come applicatore ultrasonico e che dà volume esplosivo senza grumi. Adesso ve lo mostro brevemente per non seccare il prodotto. E come vedete voi stesse è uno scovolino veramente molto particolare. È di quel tipo di scovolini elastomerici, per cui in gomma essenzialmente, caratterizzato da un corpo centrale allungato e piuttosto ciccioso, sul quale si innestano, le potete vedere in controluce, tutte queste setole sempre in gomma, per cui non sono setole pelose come quelle di un classico mascara, Per rendere meglio l'idea di quello che sto dicendo, vi sto mostrando ad esempio lo scovolino con setole, chiamiamo pelose, del mascara VAM di Pupa, che è il classico scovolino da mascara. Vedete ci sono appunto tutte queste spine che si innestano, come ho appena detto, sul corpo centrale e che sono sempre in gomma e sono estremamente folte e corte. Nel momento in cui si utilizza questo scovolino, per la verità molto raro come categoria, per la prima volta, la prima caratteristica che salta all'occhio, nel caso di dirlo, è la rigidità dello scovolino stesso, per cui nella frazione di un secondo bisogna un pochino abituarsi a questa iniziale rigidità, ma è proprio questione di una frazione di secondo. Nel momento in cui voi applicate il mascara, la combinazione della formulazione in gel e dello scovolino appena descritti lo rendono estremamente performante, per cui, come ho già detto prima, si ottiene in poche passate veramente un effetto ciglia finte e che oltretutto dura perfettamente tutto il giorno. Infatti, un'altra caratteristica di questo prodotto è il fatto veramente di lasciare le ciglia, così come voi le truccate al mattino, perfettamente intatte fino alla sera, per cui senza sbavature, senza cedimenti, nel senso che le ciglia rimangono sempre lì dove sono, bella aperte, nello stesso tempo non eccessivamente impastate, quindi non troppo rigide, per cui un effetto drammatico ma nello stesso tempo naturale. Bene ragazzi, con tutte le caratteristiche positive appena elencate di questo mascara, voi penserete che è diventato il mio mascara preferito e d'orino avanti acquisterò solo quello. Purtroppo, nel corso dell'utilizzo in questi 15 giorni, ho riscontrato un difetto per me molto grave, che è l'eccessiva tenacia e quindi la bassissima strocabilità alla sera del prodotto, che me lo fanno bocciare in totale, per cui una volta che l'avrò terminato non lo acquisterò più. Questo mascara viene venduto con un mascara normale, per cui non c'è scritto né sul flacone direttamente, né sulla confezione in cartone, il fatto che il mascara sia quantomeno a lunga dorata, se non addirittura waterproof, per cui io l'ho acquistato tranquillamente. E la prima sera nella quale ho stroccato questo mascara, ho utilizzato il mio solito stroccante per occhi, di quel tipo liquido, per cui non adatto ai prodotti a lunga dorata e barra o waterproof. Vi dico che ho fatto una fatica orba, ho dovuto sfregare le mie ciglia all'inverosimile, utilizzare più di un dischetto per ciascun occhio, e alla fine, insomma, ero anche arrossata, è stato veramente molto difficile. Per ovviare a questo problema, il giorno successivo ho acquistato il Sildemask, sempre dalla Maybelline New York, che è lo stroccante bifasico, adatto per eliminare i prodotti a lunga durata e waterproof, come vedete scritto sulla confezione. Per abitudine, non avendo particolari esigenze di durata del trucco, io evito i prodotti waterproof, per quanto riguarda gli occhi, proprio per evitare l'uso di stroccanti bifasici di questo tipo, perché odio l'oleosità del prodotto. Però in questo caso sono stata costretta a doverlo acquistare ed utilizzare, e però devo dire che il prodotto è talmente tenace, che molte volte si fa fatica anche con questo stroccante, per cui bisogna davvero utilizzare almeno due dischetti per ciascun occhio, sfregare abbastanza, e oltretutto ho riscontrato, sempre in questa fase di stroccaggio, passatemi il termine, che questo mascara probabilmente ha un tipo di texture in gel che nel momento in cui lo vai a stroccare, si frantuma in milioni di pezzettini, per cui, come potete vedere dalle foto successive, che sono rispettivamente del dischetto e del mio contorno occhi, si formano tutti questi frammenti minuscoli, che poi c'è anche il rischio che vadano a finire dentro l'occhio, per cui un effetto molto fastidioso, e quindi insomma io sapere di dover affrontare questa cosa tutte le sere, sinceramente, mi dà molto fastidio, per cui non appena avrò finito il mascara, sinceramente non lo ricomprovo. Per cui ragazze, con tutto quello che vi ho detto, il bilancio di questa review qual è? che il prodotto è sicuramente un prodotto valido, ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, però presenta, secondo me, questo difetto, che magari per qualcuna di voi, che invece ha esigenze di durata del trucco, può essere un pregio, per cui tenetene conto e decidete voi. Per cui ragazze, questo è tutto. Sono curiosa di sapere se voi siete d'accordo con me oppure no, ditemelo nei commenti senza problemi, e se vi fa piacere, ci vediamo al prossimo video. Ciao!